Salve a tutti, sono Mattia per le amiche più intime Mattioschi e sono qui quest'oggi per per darvi il benvenuto all'analisi ultra iper dettagliata del Cavaliere Oscuro, un film poco chiacchierato, poco discusso, che non ha lasciato traccia e impronta quantomeno nel fandom del genere dei cinecomic, ma anche per quanto riguarda il cinema tutto, non ci sono state discussioni in merito. Noi oggi vogliamo farvelo conoscere e scoprire per la prima volta, lo facciamo in compagnia di tre ospiti davvero belli, classificati sia ai primi posti della classifica Uomini Bellissimi del Times. Abbiamo innanzitutto Michele Innocenti, salve! Buonasera e ci tengo a sottolineare che dei tre sono arrivati più in alto in classifica ovviamente, non sarebbe neanche da sottolineare perché è scontato. Non avevamo dubbi, poi chi si vuole informare andrà a leggere la classifica. Abbiamo il signor Paolo! Ciao a tutti, io non rivelo la postazione, deve scoprirlo il pubblico, fatto sta che è un piacere essere qua per parlare di questo filmettino che ha proprio lasciato poco alla storia del cinema. Sono prontissimo, un saluto allasciati ai miei colleghi. E poi abbiamo, credo per poco tempo, Emilio, questa presenza sfuggente, colui che si fa desiderare. Infatti io mi ho contento dell'ultimo posto, degli ambiti e bellezze, ma sì, dopo una mostra d'arte e quindi scappo. Sono qui subito, per una volta, ma vado via prima, quindi una ventina di minuti per analizzare questo film e poi mi tocca scappare. Pensate che impegno intellettuale, la mostra d'arte, vedi? La mostra d'arte, tra l'altro di Badiu Kau qui a Brescia, mancano pochi giorni, è l'attivista ibangs che cinese. Vedi? Nella classifica degli ospiti più intellettuali è Primo Emilio invece, vedete? Noi invece siamo degli ignoranti tragici. Bene, allora iniziamo proprio da Emilio, lo facciamo parlare così a tempo e modo di approfondire. Al solito, prima esperienza di visione e l'ultima, da un estremo all'altro. Prima esperienza fu particolare, perché andai al cinema prenotando il posto bello, io sempre al centro sala, sia in altezza che in lunghezza, e partono i primi dieci minuti e a un certo punto non va più, non va, guasto. Nella multisala ci sposto in un'altra sala. Oddio, ma il film iniziava vinti minuti dopo. Problema che gli altri avevano prenotato anche loro in quella sala. Qui non è che potevo prendere il mio posto. Ho dovuto andare nelle file più basse. Ci hanno poi rimborsato metà del biglietto. Però capite che tu vai, prenotato bene, ti aspetti di vedere un film. Fu una di quelle esperienze che poi ti rode un po', perché il film ti piace, quindi ti coinvolge, ma dentro ti rode il fatto che tu hai prenotato e non lo stai godendo come vorresti. Però mi piacco, mi piacco. Ho il punto che poi lo rivedi, mi pare, tre volte al cinema. Aveva questo inizio forte d'impatto, che secondo me è uno dei più interessanti, perché è un film che non ha neanche Batman il titolo. e il Cavaliero Oscuro. Infatti parte che è una rapina in banca. Una rapina particolare, un po' a me piacciono tipo Inside Man e proprio le rapine particolari. Con tutti i clown e cerchi di capire. Ok, quindi so che c'è Joker, ma quando è che arriva? C'è questo mistero che deve uccidere lui, quest'altro, e poi scopri che Joker è uno di loro. Quindi già da lì questa partenza a me aveva tirato l'attenzione, aveva subito colto. Ho detto, questo film è diverso. Infatti, se vogliamo, alla fine è un poliziesco. Gli stessi problemi poi del privo, o gli stessi pringi, se vogliamo. Infatti, se vogliamo smontarlo, che qualcuno vuole smontarlo, è facile. Il giochino è quello della verosomiglianza. Se stiamo al giochino, che è verosimile, va bene tutto. Se vogliamo andare a criticare certi aspetti, anche rivedendolo, ti chiedi a volte come faccio il Joker a fare alcune cose. però la partenza è un fumetto. Quindi il predesto è sempre quello. Però è un fumetto che già al tempo, un cinefumetto che già al tempo, quando lo vedi, nonostante il finale corra un po', cavoli, quando arrivi lì al climax finale, gli danno la caccia. Io ricordo che finì, si accendono le luci, e dentro di me ero combattuto, perché speravo di avere un terzo, ma mi dicevo, ok, dovesse finire qui, mi dicono che sono due film, come quelli di Barton o Schumacher, mi va comunque bene, perché è oscuro come finale, però è finito. Cioè nel senso Batman si prende, ha avuto, diciamo, quella sua consapevolezza, e quella caduta finale, però si prende quasi addosso i peccati di Gotham. Io sono quello che posso portare. Cioè anche riguardandolo adesso, negli scorsi giorni, il finale mi emoziona, con quel Gordon che fa il monologo, che anticipa poi quello che vedremo nel terzo film. Quindi non posso dire che non sia un bel film, non posso dire che, come molti che sono andati magari a sminuirlo negli anni, perché rimane, ne abbiamo visti tanti, cinecomics, Spider-Man, eccetera. Questo è quello che mantiene nel bene o nel male una forte identità. Ci sono scene, l'inizio, la rapina, la fuga, cioè la fuga, e le, quando arriva Joker che deve catturare Dante. Tutte queste carrellate lunghe che distruggono la Batmobile, lui che per la prima volta ha la specie di moto, che poi in realtà è riassemblata dalla Batmobile. Tutte queste scene interessanti, belle. Abbiamo un Joker che non è fedele a quello dei fumetti. Forse Nicholson lo preferisco come fedeltà. Però ha questa ambiguità che vive dell'attore, di Ledger. Ogni volta che è inquadrato mi rapisce, mi rapisce ancora e continui. Mi sono chiesto, giustamente, credo anche che l'abbiate fatto anche voi riguardandolo, se ti rapisce perché il pensiero ti va alla sua morte. E quindi continui poi anche per un po' di leggende che sono note attorno del fatto che si fosse troppo impersonificato in questo personaggio. È vero o no? Per me è un lavoro attoriale eccellente. Perché in ogni atteggiamento, in ogni parola tu cogli effettivamente la storia del Joker fa sulla come poi anche nei fumetti che non sapevano mai bene qual era la versione delle cicatrici. E lui ti racconta e una volta la racconta in un modo poi in un'altra ma ci crede sempre come ci crede ad esempio al fatto che lui non gli frega niente di nessuno. A me non gli frega niente. Poi però i criminali gli fanno c'è uno che si veste un povero Freaks e si arrabbia. Cioè chi è che è chiamato così? Cioè continua a saltare e dire io sono del caos faccio tutto caotico io non faccio piani e poi invece fa piani contorti. E lui è questo continuare a oscillare nella pazzia e credere sempre alle sue cose che nell'aspetto di leggere interessante. E il finale nonostante corra la parte quando devono praticamente Harvey Dent è diventato due facce e Batman deve salvare che ti tiene ancorato. cioè io ero lì fisso sullo schermo nonostante sapessi come va a guardarlo perché veramente di nuovo mi ha ripreso quelle emozioni quindi io ne parlo proprio divertito. Un film che regge ed è spettacolare. L'unica cosa è per l'appunto si porta dietro i difetti se vogliamo del primo ovvero i cattivi come nel primo vengono poco spiegati. Quel Joker funziona però tutto il resto che c'è dietro non capiamo bene lo sviluppo come Razor Ghul che c'è tutta la parte e sparisce per un po' quando poi c'è l'apice tutto deve correre. Non so proviamo un po' di Nolan credo in questo nella scrittura infatti il finale con Dente soprattutto non lo so l'ho trovato un po' veloce l'avrei messo un poco di più per approfondirlo un attimo non so come mai mi è lasciato solo questa parvenza di dire è interessante tutto con il fatto che me l'hai basato su un uomo incorruttibile che ha fatto una legge per metterli dentro e quindi cerchi di corromperlo e però quando poi mi cambi i dente che hai due facce lo vedo un attimo poco avrei voluto vederlo un po' di più lui e invece abbiamo questa corsa alla fine che visto anche i tempi due ore e mezza passa ci sta e sono due ore e mezza comunque che filano forse dieci minuti in più di due facce e non di arba e dente avrei voluto vederlo per questa contrapposizione possiamo finirla diretta molto bene ragazzi ci vediamo settimana prossima per parlare no scherzo signor Paolo allora io ho degli aneddoti sulla prima visione tra l'altro forse io e Emilio eravamo nella stessa sala cinematografica ma prima di arrivare a quella cosa lì allora ricordo ancora estate l'avevo già raccontato a facce di nerd ma prima di questo c'è un altro aneddoto perché era l'estate del 2008 se non ricordo male uscì il film io ero all'isola d'Elba in vacanza ricordo un cinema a Portoferraio che è una località lì dell'Elba piano così fuori di gente ad attendere che la sala aprisse che il cinema aprisse insomma passa mezz'ora un'ora non se ne sa nulla il cinema non è mai aperto poi si scoprì che il proprietario di questo cinema ogni giorno faceva così cioè programmava i film ma questo cinema non apriva mai cioè è assurdo successe poi con Shrek con un sacco di film ci fecero anche l'articolo su un giornale lì dell'Elba assurdo però tu dici ok dai c'è un altro cinema stavolta Marciana Marina andiamola a vedere lì praticamente io non so se avete mai visto la serie dell'Elite del Barlume però fate conto che dove si trova il bar magari anche da lasciati il cinema era proprio lì accanto una sala estiva all'aperto guardiamo questo film finalmente dopo tutto questo tempo e non lo so dopo un'oretta e mezzo un'oretta e quarantacinque lo schermo si spegne di botto vediamo tipo la pellicola fare come se si fosse bruciata e che caspita è successo se sarà rotto il proiettore quindi si aspetta minuti interminabili alla fine proprio come è accaduto a Emilio ci si rende conto cioè ci dicono che il proiettore era inutilizzabile insomma si doveva andare a vedere la fine del film ad un altro cinema quindi immaginatevi dopo un'ore e quarantacinque tutta la gente da questa sala all'aperto che era proprio da un lato di Marciana Marina che ha dovuto fare tutta la passeggiata quindi un chilometro e mezzo circa sin dall'altro lato ad un altro cinema con persone che si sono perse durante questa traversata perché io cioè veramente siamo partiti in tantissimi siamo arrivati eravamo forse la metà ma non solo una volta arrivati all'altro cinema non sapevano rimetterlo dal punto preciso e quindi non hanno fatto discorsi l'hanno rimesso dall'inizio del secondo tempo quindi è stata una visione proprio che ho nel cuore però allo stesso tempo allo stesso tempo è un film che ho amato nonostante tutti i tentativi di sabotaggio è un film che ho amato che ricordo se il primo ve lo raccontai la scorsa settimana non mi aspettavo fosse così diverso da Schumacher perché ero proprio un bambino qua comunque erano passati degli anni mi ero già abituato un po' a quel clima così diverso e tutto sommato devo dire che quel Joker lo ha mai sin da subito ai tempi non avevo ancora visto It la sfida ad esempio ma già crescendo rivedendo il film dopo aver visto anche il cinema di Michael Mann ho percepito quanto Nolan si sia rifatto anche adesso ho amato l'interpretazione di It Pleasure Adriano Giannini al doppiaggio riuscì a farmi innamorare cioè se pensiamo a Giancarlo Giannini nel Joker di Barton e ora Adriano Giannini nel Joker di Christopher Nolan ma poi ripeto l'azione questo personaggio che viene raccontato in maniera introspettiva l'avvento di due facce certamente come dice Miglio se vogliamo essere puntigliosi possiamo trovare delle cose che non sono così realistiche però allo stesso tempo io ho accettato il gioco ho accettato ciò che Nolan mi ha mostrato e sono molti più i pregi quelli che ricordo piuttosto che le cose meno riuscite quindi per iniziare posso solo dire che è uno dei miei film su Batman preferiti e anch'io quando terminò dissi non c'è bisogno di un terzo ero talmente soddisfatto se penso solo anche alla scena dell'interrogatorio tra Batman e Joker ci sono delle scene che mi restano nel cuore che posso dire un filmone incredibile curioso di ascoltare anche Michele che spero non abbia da ridire perché se no lo trovo ecco Michele subito diretto no non mi prendo il mio tempo non sia prepotente subito no intendevo che ti passi immediatamente la parola che difensiva la mia storia con questo film è lunga e intensa e parte come avevo anticipato la settimana scorsa dai rumor sul casting del Joker che furono veramente un calvario perché tutti dagli appassionati a la casalinga di Bouguera volevano Johnny Depp per forza post Jack Sparrow nei panni di Joker chi meglio di lui e bla 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 che palle la mia reazione era sempre e comunque che palle ricordo che a un certo punto addirittura si fece il nome di Adrian Brody vi dirò erano gli anni post Oscar post Kong di Peter Jackson e poi venne fuori It Ledger e io me li ricordo cioè se ne parla ormai come di una leggenda ma i titoli Brokeback Joker Brokeback Batman esistevano gli ho letti e tutti erano indignati poi sono iniziati ad uscire le foto sono iniziati ad uscire le foto e sottolineiamo subito la campagna di marketing di The Dark Knight del Cavaliere Oscuro è una delle grandi rivoluzioni dell'internet e del cinema sull'internet che ci sono state ricordo ancora il sito di Empire Magazine con la home page con delle carte da gioco ogni giorno se ne girava una e alla fine veniva mostrata a figura intera la foto di Joker seduto nella prigione della stazione di polizia a gennaio 2008 ero a Londra per l'ultimo dell'anno io ero alla ricerca cioè ero lì intento anche a scoprire la grandezza di questo IMAX che all'epoca sembrava una una chimera cos'è 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 in quei giorni andrei a vedere al BFI IMAX che è uno dei posti più belli del mondo Beowulf di Zemeckis che rifacevano in 3D senza sapere che pochi giorni dopo sarebbe iniziata la programmazione c'era i cartelli nel BFI IMAX di Io sono leggenda che ho scritto non perdetevi i primi 6 minuti di Dark Knight in cui vedremo per la prima volta il Joker di Fledger e io rosicavo perché sarebbe iniziata la programmazione due giorni dopo che tornavo a casa poi ricordo benissimo che una sera ero a casa di un mio amico Filippo stavamo guardando Dead Silence di James Wan era il mese dopo credo cos'era? febbraio sì febbraio stavamo guardando Dead Silence di James Wan e noi non ci capacitavamo del fatto che non fosse uscito al cinema e lo stessimo guardando in DVD misteri finisce il film ero a casa del mio amico mi suona il telefono a mezzanotte e mezzo di un altro amico che è successo? rispondo me lo ricordo come se fosse in questo istante pronto è uno scherzo e io cosa? è morto It Ledger io rimango di sasso facciamo le due a leggere le notizie su internet e devo dire che è stato una delle grandi la morte più dolorosa di un attore di una star che ho vissuto dopo quella di Philip Simurofman perché Philip Simurofman era veramente il mio attore preferito e lì è stato devastante quindi è chiaro che quelle che erano aspettative altissime perché era un film di Batman perché era il secondo film di Batman di Nolan che nel frattempo aveva fatto ricordiamo il suo capolavoro The Prestige erano altri poi è uscito il trailer con la voce con le immagini veramente io ricordo le settimane prima dell'uscita come le più lunghe e asfissianti della mia vita io non vedevo l'ora di essere al cinema letteralmente arrivato in ritardo in Italia peraltro di una settimana se non sbaglio solo una settimana The Dark Knight Rises molto di più allora confondo allora lo dico io se non sbaglio è uscito il 18 controllo io lo vidi ad agosto ricordo però forse per favore The Dark Knight Rises è uscito a settembre è uscito il 3 no è uscito il 29 agosto no 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 e poi è uscito ok però quello è uscito tipo il 23 di luglio negli Stati Uniti lo so sono andato a Londra per vederlo un mese prima lo so che è uscito un mese prima ma Dark Knight è uscito una settimana dopo rispetto agli Stati Uniti in Italia controllo controllo perché non trovo Italia dov'è l'Italia l'hanno cancellata dalle mappe dalle cartine ah 23 luglio per favore signori per favore mi arrabbio e lo so anche per un altro motivo io devo sottolineare questo passaggio e concludo velocemente io The Dark Knight l'ho visto 11 volte al cinema non l'avevi capito di cui 23 luglio sera 24 pomeriggio e sera 25 pomeriggio e sera poi un attimino comprenderlo il 29 luglio il 29 luglio sono partito per gli Stati Uniti è stato tutto agosto praticamente fino al 23 agosto con un mio compagno di classe del liceo ospite di suo pretello nel New Jersey e ho visto per ben tre volte al cinema The Dark Knight laggiù di cui due in IMAX questo il mio portachiavi che ora non ho con me è di The Dark Knight questo per sottolineare che è veramente uno di quei film che hanno scosto la mia passione da cinefilo non solo nerd o di Batman da cinefilo veramente è un film a cui voglio un bene infinito è un film che amo che proprio fa parte del mio DNA ed è un film che amo tutt'oggi però perché un però lo sapete che Michele Innocenti lo deve avere siccome siamo qua a farle pulci a tutto più lo si guarda più ogni tanto fai cazzo però questa è veramente una stronzata vai porca miseria ma questa qui come cacchio ce l'hanno fatta bere come qualcosa ripeto è un film che adoro però siccome è veramente considerato uno dei più grandi film del ventunesimo secolo il più grande cinefumetto e il capolavoro parliamone e ne parliamo più avanti dunque vi ricorderete che io vi di Batman Begins al cinema senza particolare trasporto un po' a sorpresa anche per quanto riguarda il Cavaliere Oscuro sì un po' di eccitazione più che altro per il coinvolgimento di Joker che è sempre stato un personaggio amato dal sottoscritto ma c'era il casting di Tledger e ha ragione Michele gli stessi discorsi vengono paragonati a quelli applicati a Pattinson molto peggio all'epoca soprattutto considerando che internet non era ancora esploso oggigiorno con tutti i social era proprio incancrenita l'opinione verso Tledger e anch'io francamente ero perplesso poi arrivò il trailer eh ma sai che ma soprattutto i primi dieci minuti in anteprima su Youtube perché anche qui di tanto in tanto mi viene detto ma non esagereranno con le campagne marketing hanno rilasciato troppo ragazzi la scena della rapina era già su Youtube non caricata in versione leak ufficiale tant'è vero che io la sapevo a memoria prima ancora di entrare in sala e anche lì vedendola il Joker diceva due frasi ok visto al cinema non potevo credere ai miei occhi in positivo ovviamente quante volte l'ho visto non mi ricordo però amore amore puro in tutti i luoghi in tutti i laghi sesso spinto hardcore fatto col film intendo e sì dei difetti ci saranno li analizzeremo ieri per la prima volta c'è una cosa che mi ha dato un pelo di fastidio per la prima volta però un'altra volta non posso essere oggettivo quest'oggi e poi magari ultimo in classifica alla fine ultimo di scena no non posso essere oggettivo perché con tutte le sue storture il suo realismo che in realtà è giusto messo lì come facciata come costume del personaggio io vedo lo spirito di Batman capisco che con tutti i difetti che possono esserci lo ripeto chi si è occupato di questa pellicola e c'è anche il sempre sbeffeggiato David Goyer ricordiamolo perché qualcosina di buono l'ha fatto anche lui in carriera è giusto sottolinearlo si sono informati qualcosa hanno letto qualcosa hanno visto il risultato non è frutto di casualità non è frutto di coincidenza percepisco un amore che come ogni sentimento ogni tanto prorompe eccessivamente e quindi provoca delle storture ma se devo mettere sulla bilancia i pro e i contro mi spiace mi spiace e poi un film influente nel bene e nel male soprattutto nel male perché poi dobbiamo anche contestualizzare questo tipo di operazione il film arriva nel 2008 quell'anno troviamo al cinema il Cavaliero Scuro e Iron Man e i due che presentavano qual era il terzo non me lo ricordo è il Boy of the Golden Army è uscito il venerdì no 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 lo so che non ha creato niente però il resto è un gran peccato però si fu un'annata devo dire memorabile uscì la settimana prima in Italia il venerdì prima di The Dark Knight due settimane di fila è il Boy 2 e The Dark Knight queste due pellicole mostrarono al mondo intero i cinecomic i due modi in cui potevano essere trattati e hanno sconquassato l'industria cinematografica ripeto nel bene e nel male sentir parlare di un Nolan sopravvalutato il contesto di questo film mi fa abbastanza ridere se poi dobbiamo parlare della sua carriera nell'interezza potremmo fare una diretta parte apposita sì ma questo film sopravvalutato insomma sono due cose insomma se possiamo iniziare la discussione ragazzi vi devo salutare un attimo i vostri pareri vi do la classifica se volete che per me è il primo perché stavo ripensando a una cosa che infatti vi chiedo velocemente io non mi aspettavo ricordo del cinema la morte della Ghilena Richard il cambio attrice mi aveva un po' dispiaciuto me l'aveva colpito non me l'aspettavo nemmeno io io sì perché c'era quell'inquadratura di Batman sulle macerie ho detto quella è una tragedia qualcosa succede un pochino spammata dovunque poi sai a 13 anni io avevo 13 anni però ecco forse lei a un certo punto era diventata prevedibile ma poi ci arriviamo non mi aspettavo il trattamento di due facce in quel modo lì se l'ho rimasto proprio molto bene ragazzi grazie a tutti ciao Emilio buon amostrato grazie io ad esempio ricordo che ai tempi non mi aspettavo nemmeno perché non mi informavo su internet o altro poi non so se era una cosa risaputo oppure no però del ritorno di Cillian Murphy e lo spaventapasseri nella prima scena io proprio non era neanche mai stato ubicato almeno all'epoca si caspita cioè vedere e poi mi piacque sin da subito il tema dell'emulazione perché il Cavaliere del Puro parla di questo tema del fatto poco eh eh però sicuramente però ricordo che mi fece riflettere ogni volta che rivedo il film è molto attuale anche il tema del farsi giustizia da soli pure oggi quindi vedere queste persone che vedessero in Batman una persona da prendere come punto di riferimento per poi ovviamente andare incontro alla morte o a degli spiacevoli avvenimenti mi colpì pensiamo poi cosa fa il Joker a uno degli emulatori quindi visto che parlavamo del marketing è verissimo non fu rilasciata l'immagine di due facce scoprimo in sala come era realizzato che fu un mi ricordo benissimo uno spot televisivo da dieci secondi in cui si vedeva di spalle la quando beve il liquore senza il controcampo dentro pensavo fosse morto in mezzo e si vedeva un pezzettino tanto c'è avuto la Svet e il tuo Brontosauro con le ali da pipistrello un abbraccio anche lì in sala rimasi esterrefatto poi al giorno d'oggi magari la CGI la noti un po' secondo me è invecchiata bene ma i tempi no no scusami finisci pure Mattia no fu un effetto che mi colpì tantissimo due colonne portanti della discussione che devono essere subito piazzate lì ovvero innanzitutto l'importanza perché io non mi permetterei mai neanche nei miei sogni più selvaggi di critico rompipalle di sminuire l'importanza di questo film questo film così come Il Signore degli Anelli così come Matrix è uno degli spartiacque del cinema contemporaneo c'è un prima e c'è un dopo The Dark Knight chi lo nega o non c'era all'epoca e non ha vissuto un cambiamento importante o c'ha sulle palle Nolan e lo sottolineo io l'amavo e ora ce l'ho parecchio sulle palle quindi dovrei fare il basti anche un tre per forza ma non sono così stronzo come mi dipinge la gente e terzo c'è da sottolineare questa cosa che se poi andiamo a analizzare la storia successiva ha fatto più danni che che cose buone perché da quel punto tutto dai teletubbies ai Power Rangers a Jurassic Park doveva essere ributtato in stile cioè io non mi ricordo una notizia dai siti americani di quegli anni che non iniziasse con reboot del Matioski show Dark Knight Style qualsiasi cosa però è anche vero Michele che non è tanto colpa di un film che riesce a fare una cosa in maniera ottima si parla di conseguenze che è un'altra cosa visto che c'è la domanda provocatoria un capolavoro se vogliamo appellarci alla definizione che utilizzano molti ovvero un film che poi viene preso come pietra di paragone e che getta un filone che piaccia o meno lo è come sì se dobbiamo parlare di un capolavoro dal punto di vista qualitativo e qui entra in campo la soggettività ovviamente ciascuno di noi può preferire o meno altri tipi di messe in scena altri tipi di interpretazione e poi ovviamente si fa cazzotti con la versione di Barton a cui molti sono molto più affezionati e legati indubbiamente però ripeto sentire parlare di sopravvalutazione no allora quella non solo è un'esagerazione ma è uno di quegli argomenti un po' non voglio usare la parola troll ma degli saggenti dell'internet che devono un po' ridimensionare tutto secondo me semplicemente come spesso accade sono fenomeni quasi sociali quando un prodotto viene elevato tantissimo ovviamente è quasi inevitabile trovare poi parliamo di due facce quindi la medaglia doppia faccia l'altro lato della medaglia ma sapete che forse forse non è così bello come dite e allora inizia tutto l'altro filone in contrapposizione è normale non ci trovo neanche una cattiveria di fondo ma proprio un istinto magari chi l'ha recuperato in seconda battuta ci sono anche le varie ondate tu senti parlare di un film di una serie di un fumetto di un libro bellissimo wow ma se lo vedi a distanza di anni dopo che ti hanno fatto il mazzo così ti aspetti l'apoteosi cioè non parti dal livello di base con cui lo videro gli altri in sala non c'è lo stesso stupore assolutamente e allora forse capisco che soprattutto magari i più giovani anche abituati a un altro stile un altro stampo e soprattutto pensando anche alle conseguenze che abbiamo citato che ha avuto lo vedano un po' maluccio una cosa a livello personale ho visto citato nei commenti quelle 740 volte chi la sfida ora ho detto anch'io Nolan io parlo da super appassionato di Michael Mann è uno dei miei cinque registi preferiti quindi sono un po' sensibile all'argomento Nolan ha sempre sottolineato quanto ami il cinema di Mann e quanto It La Sfida sia servito da ispirazione per The Dark Knight per quanto riguarda sì inizialmente la scena della rapina e un po' l'atmosfera però veramente ragazzi The Dark Knight non è l'It La Sfida dei Cinefumetti non c'entra assolutamente niente cinematograficamente tra l'altro nella scena della rapina c'è William Fickner il direttore di Banca che era e recitava in It La Sfida fantastico caratterista anche quello secondo me è un modo di appiattire la discussione per frasi fatte che non aiuta a contestualizzare bene il film e l'altra colonna di cui parlavo prima dal quale bisogna partire per forza è il gioco di Heath Ledger perché non si può prescindere questo film dalla sua presenza prima vi faccio una domanda quanto di quel doppio più del doppio d'incasso è dovuto alla morte di Heath Ledger secondo voi io dico che il film sarebbe andato benissimo anche se Heath Ledger non fosse morto perché secondo me se porti il Joker però è difficile da dire senza altro ha influenzato la morte passare da 400 quant'erano 370 milioni a un miliardo e due non vuol dire che il 20% del pubblico un miliardo punto sono controllato adesso un miliardo vuol dire che c'è andato ogni persona che ha visto Batman Begins più tutta la famiglia assieme e se vedete è la stessa cosa più o meno che è successa con Fast 7 io ragazzi vi ripeto avendo vissuto visceralmente tutto quello che è avvenuto prima durante e dopo l'uscita di questo film non è che con questo sminuisco il film ma questo film deve tanto anche a quel tragico evento non in qualità ma in risonanza sicuramente purtroppo anche lì creando delle tendenze pessime io tutt'oggi incontro persone che mi dicono che Heath Ledger è morto perché è impazzito girando il Joker senza contare che le riprese erano finite da quasi un anno e mezzo e lui era sul set di un altro film e in ogni intervista che esiste post riprese dice che non si era mai divertito così tanto una tra l'altro al festival di Venezia dove presentava il film su Bob Dylan io non sono qui di Todd Haynes a interpretare e creare un personaggio anche lì purtroppo credo che io di una cosa sono sicuro io sono sicuro che Heath Ledger avrebbe comunque vinto l'Oscar che ha vinto postumo perché un po' la categoria un po' l'annata un po' il merito oggettivo non gli avrebbero tolto quella statuetta però se guardiamo al fenomeno The Dark Knight nel bene e nel male passa anche dalla porta della morte di Heath Ledger ma è la stessa cosa che succede con Paul Walker stessa esamata anche per Wakanda Forever io già mi immagino la stessa cosa tu hai tirato in ballo il doppio un po' difficile stabilirlo quasi il triplo però tu hai chiesto se proprio quell'aumento sia legato strettamente io ti dico che senza la morte di Heath Ledger da circa 400 The Dark Knight sarebbe arrivato a 7-800 milioni perché era piaciuto tantissimo Begins ma almeno 200-300 milioni li ha guadagnati purtroppo la morte se me la metti giù così sono d'accordo perché ma anche non solo l'incassi la risonanza del film secondo me di certo c'era il gradimento di Batman Begins che si era diffuso in un video un film che già dai trailer si proponeva un po' più accattivante assolutamente perché il Joker comunque un personaggio che richiama e l'abbiamo visto anche con Phoenix e lì non c'era la morte di nessuno e il miliardo l'ha fatto perché il Joker è il personaggio che è di sicuro è una cosa che ha contribuito anche perché come abbiamo già citato si crearono già le leggende metropolitane troppo nel ruolo è morto per quello bla 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 ma secondo me fece anche tanto il passaparola positivo assolutamente che abbiamo visto nel caso di Justice League come si possa partire col botto e poi è vero è verissimo è verissimo e invece no no ma questo era la premessa per dire che la tragica morte di Fledger ha semplicemente amplificato di dieci volte la grandezza di una delle migliori interpretazioni degli ultimi trenta anni di cinema è vero io ricordo poi appunto col passare del tempo si rivaluta anche ma lì per lì tutti coloro con cui ne parlavo anche su un internet lo ripeto in stato primigenio per questo film erano impazziti e non si parlava solo di leggere anche ma non solo però ovviamente è una presenza per certi versi ingombrante che però è dosata lungo il film se vedete non è che appaia più di tanto soprattutto non ci si poteva mai immaginare che potesse interpretare così bene il personaggio tanto da magari superare anche Jack Nicholson infatti lì ci fu anche la questione Nicholson no nessun altro può interpretare il personaggio c'era quello l'atteggiamento il passaggio da ma chi è sto stronzo ai primi trainer alla morte e alla visione in sala cioè fu proprio un'escalation una scala orca e vi dico che la grandezza del Joker è difficile far cambiare l'opinione assolutamente e la grandezza del Joker va detta è tutta di leggere ma inizia nella scrittura io veramente ho visto allora per me la più grande scena di The Dark Knight nel suo piccolo è il momento alla fine dell'inseguimento non diamola per scontata è vero c'era anche tra l'altro me l'avevo dimenticato dall'epoca del luce del film una situazione del genere in Batman di Tim Burton ma con un atteggiamento completamente diverso vedere il gioco che appena come? Hit me esatto quella scena per me è il nucleo di tutta la grandezza del film ovvero un film che è un cinefumetto che all'epoca era il genere che era di nicchia con delle regole molto ferree in cui come dice lui cito come si chiama una forza aiutatemi di rompente che incontra un oggetto inamovibile tu hai una scena a metà di un blockbuster del genere in cui il cattivo è disposto a farsi ammazzare pur di far vedere al buono che può fare la cosa sbagliata anche lui e quello è il nucleo drammatico concettuale teorico di tutto il film perché come dicevo l'altra settimana la trilogia del Batman di Nolan ha tre tappe tematiche fondamentali il primo film è sull'ego nel senso di io protagonista io che trovo il mio ruolo dopo le insicurezze della mia infanzia il secondo è sulla nemesi nemesis in termine latino cioè la nemesi che mette in difficoltà lo status quo che ho raggiunto e niente lo fa meglio nel cinefumetto del Joker di Thledger una forza a cui non interessano i soldi non interessa l'amore non interessa il potere non interessa solo fare casino come dice lui chiaro e tondo non saprebbe cosa fare il cane che rincorre la macchina e la acchiappa ed è lì tutta la potenza del film c'è poco da fare e Batman non lo uccide io aggiungerei aggiungerei anche aggiungerei anche il fatto di quanto sia iconico ogni momento in cui lui si presenta anche grazie ai dialoghi cioè quando penso alla scena in cui sentiamo prima la risata quando ci sono i capi della malavita che stanno organizzando insomma come comportarsi sentiamo prima la risata stridula e poi la scena della matita c'è una scena una delle più grandi introduzioni anche se è la seconda volta che lo vediamo della storia quantomeno del cinema mainstream non voglio esagerare con i termini che non mi piacciono i termini non ma la domanda che vi volevo fare io con tutto questo ragionamento è togliamo il Joker dal film il resto? ma secondo me è una domanda un po' tendenziosa che a me piace perché tu hai detto bene è un film che parla proprio della contrapposizione con la neve quindi se lo togli non hai il film ma non credo sia un difetto no 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 ma infatti non volevo sottolinearlo come difetto è una cosa che dicono tanti è una cosa che dicono tanti il problema è che le dinamiche che circondano il nucleo più le guardo più mi ci trovo a mio agio perché è veramente come tornare a casa vedere quel film però mi rendo conto che sono molto molto macchinose tutta la parte Hong Kong tutta la parte dei processi tutta la parte degli attentati poi sulla verosimiglianza ci arriviamo in un secondo momento che quella è un'altra problematica ancora minore però che va considerata se vogliamo parlare criticamente di questo film sì beh prima Emilio diceva che si porta dietro i difetti del predecessore troviamo le caratteristiche tipiche di Nolan il montaggio che passa da una scena all'altra io ieri l'ho proprio notato l'ho visto anche in originale perché magari uno dice col doppiaggio alcune frasi sono più lunghe no a volte c'è il personaggio che non appena chiude la bocca boom boom fine quello un po' dà fastidio si passa da una scena all'altra e non sempre c'è il raccordo tematico io perché io c'ho una mia teoria una mia teoria un po' da ex amante di Nolan che tutte le volte spera che torni il grande regista che era io credo che The Prestige tra Batman Begins e The Dark Knight sia un po' il punto paradossalmente il punto di arrivo massimo della sua carriera ma anche l'inizio dello scricchiolio sembra un gioco di parole ma secondo me fare un film sull'illusione e sul trucco della narrazione lo ha portato a dire oh sai che a me sta dinamica mi piace l'applico a tutto quello che racconto perché mi rendo conto più che lo guardo ripeto l'ho visto 11 volte al cinema pensate nei successivi 14 anni quante volte l'ho rivisto che lo so a memoria più che lo guardo a memoria più mi rendo conto che quello che fa lo spettatore il cavaliere oscuro e non è una critica è prenderlo per i fondelli cioè ti fa credere a della roba che tu sai che non è possibile ma sei talmente preso emotivamente e anche dall'adrenalina della narrazione super frenetica che non ti ci soffermi se non l'hai detto te Michele è come se il cavaliere oscuro rispettasse le regole che scopriamo in The Prestige cioè è come se mettesse in pratica quelle regole lì cioè per quanto lo apprezzi non so quanto da un punto di vista linguistico no ma allora io ho capito qual è il succo qual è il succo della questione ovvero accadono delle cose improbabili in questo film oh porca miseria e di tanto in tanto eh ma lui ha voluto fare la roba realistica allora già in Begins sono tre clamorose già in Begins si finiva a volte su un terreno prettamente fumettistico assolutamente io credo che ovviamente per semplificare anche in serie di marketing il film realistico diciamo che cala i personaggi in un contesto riconoscibile plausibile plausibile esatto perché questo è un altro punto quando si discuteva dell'influenza del film ragazzi anche se era il 2008 qui siamo ancora in periodo post 11 settembre infatti ci volevo arrivare è stato un evento di una dirompenza incredibile sia per il mondo intero ma per gli Stati Uniti non ne parliamo neppure perché fu un evento che andò a pungerli nel vivo è il gigante che scopre un bel giorno di essere fragile e che quella che sembrava una formica può abbatterlo e quindi si punta proprio lì cioè nei discorsi del Joker emerge tutta l'insensatezza delle regole che noi esseri umani ci siamo dati per costruire la nostra società quando dice io posso parlare di soldati che muoiono e nessuno dice niente ma se attento alla vita di un sindaco di un semplice sindaco tutti perdono la testa quindi funziona anche per quello cioè è lo specchio di quel preciso contesto storico non dimentichiamoci che nel pozzo di questo film c'è un edificio che prende fuoco alle finestre con il simbolo di Batman il Cavaliere Oscuro è il terzo dei tre grandi film ogni tanto i film come si dice sempre hanno bisogno di tempo per essere anche contestualizzati anche 2001 all'inizio ha fatto schifo a tutti i critici poi vent'anni dopo si sono presi a schiaffi con i piedi da soli ci sono tre grandi film post 11 settembre che hanno parlato di quel trauma in modi diversi uno è questo l'altro è La guerra dei mondi di Spielberg e l'altro è The village di Shyamalan di quello parlo sono i tre grandi esempi di come Hollywood anche in altri generi in altri contesti non parlando direttamente non facendo cose infami come il finale di Remember Me col povero Pattinson per rimanere in tema Batman terribile delle cose in maniera non ricattatoria e stronza come quel film per esempio che lo trivializzava e quindi è importante anche da quel punto di vista è un film che parla di questo film perdonatemi ma allora un conto è quello che si dice su internet io ho già visto alcuni battere le due facce così non poteva sopravvivere ma voi mentre guardate il film e qui do ragione a Michele ma mentre guardate il film vi ponete il problema perché io vi faccio presente una cosa lì funzionava il realismo della della ferita noi eravamo abituati a Tommy Lee Jones truccato di viola su mezza faccia quel quel make up CGI non lo fecero vedere l'abbiamo detto prima nel marketing quando questo si girava tu una cosa del genere in un cinecomic ma mai nella vita tra l'altro posso dire che quella scena è anche omaggiata da un recente film che è uscito nelle sale di lui che si gira è vero ho capito ho capito sì sì ci ho pensato anch'io subito ci ho pensato anch'io spoiler sulle cicatrici non crescono i baffi signori ecco bene ora mi rendo io mi rendo conto anche che qui molto spesso facciamo il giochino invecchiato non è invecchiato però per la narrazione che metti in cantiere è un problema che due facce non si infetti posto che tra l'altro ha l'indipendenza di due ore perché poi schiatta se ce l'avesse fatto vedere dopo tre anni che era ancora in giro così mi ricordo che tanti dicevano che l'occhio appena si fosse mosso l'occhio sarebbe colato fuori dall'orbita se dovessimo fare c'è Joker che mette gli esplosivi dappertutto non si sa come sai perché io ci tengo a sottolinearlo Mattia così faccio un passo avanti ma non troppo perché di fatto nel Cavaliere Oscuro forse in maniera anche più eccessiva ci sono tutte le cose che fanno schifo a tutti nel terzo film è vero è verissimo assolutamente sì sì vero sì sì nel senso ormai perché io vi parlo della dirompenza del film di parlarne anche in maniera un pochino più fredda non per sminuirlo ma io sono d'accordo per far vedere che è un modo di fare cinema che da quel film lì in poi Nolan ha sempre portato avanti spesso fallendo altre volte meno quasi sempre perché a parte il terzo Batman Inception gli altri lasciamo perdere e che però va contestualizzato va contestualizzato perché ripeto il 3 è un film stupido con le micchiate ma anche The Dark Knight poi possiamo parlare di tante cose delle differenze tra il secondo e il terzo film così come dal primo al secondo però allora io ne voglio citare tre ragazzi la prima scena è una delle scene più belle iniziali di sempre però porca paletta i banditi più imbecilli della storia che si fanno e vabbè il fullman che esce dalla banca io vedi quando vi dico che Nolan è un grande regista tranne che nei dettagli lasciamo stare entra un pulmio della scuola precisamente sulla battuta ok precisamente sulla battuta fonda tutto nessuno dice ma cosa fa questo imbecille e nel frattempo una colonna in cui lui si tranquillamente rimette dentro ma come niente fosse se guardate alla sinistra dell'inquadratura non solo tutto questo che è una stronzata ma c'è la gente che cammina come se niente fosse non guarda neanche quella polizia però c'è la polizia che arriva si 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 vedi le comparse che vanno come se stessero posto in ritardo per il lavoro quella poi parliamo di narrativa quando gioca ho notato ieri vedendo la rapina che uno muore per caso si poi vogliamo parlare del fatto che il direttore della banca si lo lasciano il direttore della banca lo lasciano lì nel gabbiotto no ma non solo ma viene crivellato con una pistola mitraglietta e non c'ha non dico il sangue neanche uno strappo nella camicia e parla parla tranquillo un tempo i criminali della città soprattutto ci viene la ragazza ma perché non la sputa quella bocca e sta fermo lì come un cretino in attesa di esplodere vabbè la scena della festa altro momento bellissimo del film meraviglioso con quella che dal mio punto di vista secondo me è la vera versione della sua storia perché la racconta in maniera molto più partecipata della prima piccola convinzione personale non dimostrare è il bello è il bello la scena finisce così finisce così la scena con lui che lascia andare Rachel Batman che si butta la salva non si sa per quale legge della fisica tutti gli stronzi che sono su il traplodico Joker cosa ha fatto ha preso l'ascensore è andato via Batman non l'ha aspettato giù cosa ha fatto dove è andato il Joker lo so lo so ma non è una cosa da poco il Joker in cima a un palazzo Batman è davanti al portone questo da dove è scappato l'ha fatto passare ci vediamo alla prossima non è una cosa da poco ragazzi è una stronzata però lo sai lo sai che io a tutte queste cose ci ho fatto caso dopo averlo rivisto più volte cioè eh sì come diceva prima è quella che è la cosa dall'inizio senti quello che ti dico dall'inizio ci sono ci sono ci mancheremo Joker è quella è quella un pochino a cui posso credere che c'aveva il piano B ma porca già vabbè ma la disposizione di tutti gli esplosivi è una roba folle a parte ricordiamoci è come se Bin Laden domani è morto il cugino di Bin Laden domani tutti sapessero che è a Milano e non mettono neanche un posto di blocco perché dove vuole andare dove vuole fare qualcosa il Joker ci va fischiettando letteralmente e vabbè in seguimento ok anche col presupposto che uno ci abbia un piano B che stronzata è in seguimento vieni fermato da Batman vieni catturato cosa che te speravi che non succedesse ti mettono in prigione innanzitutto ragazzi in teoria il film vuole darti il messaggio che lui sperava che succedesse perché aveva tutto archivizzato quello che arriva in galera nella celletta in mezzo al coso far ridere insieme agli altri prigionieri fa molto ridere così come far ridere che ok che devono andare a salvare Dante e Rachel ma lo lasciano in una stanza con un poliziotto non due uno che tra l'altro bastava chiuderlo nella stanza senza nessuno e guardarlo se tentava di fare qualcosa dal vetro fra l'altro arriva uno pazzo che urla stronzate che gli fa male lo stomaco e dove lo mettono? col Joker cioè no o meglio lo mettono nella gabbia no non è col Joker non è la stessa è 10 metri dal Joker nessuno che poi salti in aria isoliamo la stazione di polizia non entra nessuno non esce nessuno finché ci abbiamo questo qui e non sappiamo ragazzi ripeto eh lo so sì sì ci sono tutto sono delle stronzate di scrittura che gridano vendetta ma più di tutti quello della festa cioè Batman è davanti all'ingresso del palazzo lui fa allora qua mi stanno dicendo che forse è andato via in elicottero perché c'era l'elicottero con cui arriva Bruce potrebbe essere potrebbe essere sai anche il pulmino cioè alla fine non è che fosse così sì 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 sai è una risposta che mi sento di dare altre cose ma il processo che a me Harvey Dent non è morto perché lo scagnozzo di Marone ha scelto non gli andava la pistola sì 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 però lì lì io l'ho sempre letta come citazione alle origini del personaggio nei fumetti sì 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 ma certo quello secondo me è palese perché oltretutto nel fumetto Maroni era quello interrogato gli getta l'acido in faccia come si vede in Batman Forever in quella scena memorabile con Batman che era seduto e non riesce a fermarlo vestito da Batman e l'avrei messa qua come citazione sì però ecco paradossalmente il punto di forza è che queste domande te le fai alla ventesima esatto è quello faccio la battuta sono due facce del bello e del brutto quella che ha sempre dato più fastidio a me è la questione di Gordon della morte fingono che muoia e si infiltra e ci sembra pianificato ma fino a un certo punto è stato potendo stare malissimo la moglie e i figli come niente però il figlio appena torna suo padre che pensa sia morto l'avete Batman ti ha aiutato nemmeno oh sei vivo papà come di ah eccolo è un fanboy è un fanboy di Batman però lì non si capisce quindi se Batman avesse previsto anche di far finta di prenderle sono tante sono tante però riconosco che quella morte il mio bug è quello di Gordon però quella morte apparente a me sorprese tantissimo perché tu sei un disgraziato ma è vero la ricorda in sala il mio amico che frequentavo all'epoca no è morto ma cos'è morto che nel trailer si vede che spacca il bat ma c'avevo c'avevo un capo e avevo 13 anni no no Michele io ti dico che io ti dico che per me era morto in quel momento ma davvero ma poi c'è quante volte io sapevo dei trailer ho detto ma Michele quante volte nei trailer quante volte nei trailer mettono scene che poi nei film infatti no nel 2008 no Paolo non c'era ancora la tendenza però io li parli in sala non ricollegai io mi ricordo anche io l'amico Marco che poi avremo l'aneddoto la settimana prossima per farvi capire quanto siamo scemi sapevamo talmente a memoria il trailer che abbiamo detto no c'è la famosa scena in cui spacca il batsegnale mi pare strano che sia morto infatti torna tutti vabbè quindi proprio così io ho pensato se è morto un film di merda fanboy già all'epoca se è morto un film di merda invece sarebbe stato per dirvi la formamenti se con cui ragionavo al tempo che è anche quella di oggi d'altro caso e non le ho citato tutte le super minchiatone no ma potremmo fare tre ore di diretta eh sì così se lo analizzi scena per scena verrebbero fuori delle cose però secondo me è ai spettatori di riguardarlo prima di riguardare il terzo per la prossima settimana vera secondo me qua si scade anche un po' all'analisi alla Red Letter Media cioè molto spesso secondo me ma è un errore in cui cado anch'io ci mancherebbe altro il film va valutato nella sua efficacia nella sua interezza dall'inizio alla fine perché tantissimi capolavori se messi sotto la lente di ingrandimento sequenza per sequenza hanno tante di quelle stronzate che non si finisce più come CinemaSins si insegna esatto CinemaSins io che sono un detrattore degli ultimi Jedi lo sapete ho visto su YouTube il canale come si chiama Moller mi sembra questo ragazzo americano che ha fatto dell'analisi sugli ultimi Jedi ma veramente di cinque ore dove sta lì fotogramma per fotogramma va bene per me è un film storto anche vedendolo linearmente ma quell'analisi lì non sopravvive niente andiamo a riprendere il Batman di Barton se volete ma in tutti il Joker con un certo punto si tira fuori un pistolotto dal pantalone dove cazzo il gioco della mancanza di senso non è per sminuire il film è il fatto per sottolineare quanto l'emotività quanto sia riuscita la costruzione drammatica ed emotiva nei confronti del pubblico che ti ci fa passare sopra poi ti dico però prendiamo in misura anche quella perché si sta parlando di un film che per molti è uno dei più grandi film della storia del cinema non è che per questo lo sminuisco però non possiamo nemmeno scolpire nella pietra è un capolavoro punto come hai detto bene te vale per tutti i film anche se ci sono nella scarpa per un utente ho capito che tanti critici hanno detto che è un capolavoro e Nomadland ha vinto 4 Oscar per me è un film di merda nel senso se no non chiediamo opinioni però è giusto dire che molto spesso come ha detto Matiosi non ho capito scusami Quantina vinti Nomadland 3 o 4 lo ricordo ora vado a vedere 4 mi pare ne abbiamo vinto però vado a vedere come ha detto giustamente Matiosi quanti capolavori ci sono che presentano anche dei difetti che poi possono anche essere utili ai fini narrativi se dovessimo stare lì troviamo difetti nei film di Sergio Leone in quello si basa quindi qual è però il prezzo di questi film è che come abbiamo detto fino ad adesso mentre li guardi non stai lì a dire cioè io mentre vi faccio un esempio non è certamente un capolavoro però un film di intrattenimento da cui io pretendevo qualcosa mentre vedevo No Way Home già mentre vedevo il film io capivo che certe cose non andassero mentre io guardo Batman di Nobby mi poteva far vedere anche un suo che vola infatti ora sì 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 però tutto quello che è bellissimo in questo film le scene d'azione non i duelli le cose sono tutte belle dall'attacco alla torre di Hong Kong all'inseguimento fino all'attacco finale al palazzo dove c'è Joker sono tutte bellissime sequenze prima leggevo che la sequenza Hong Kong non è memorabile a me piace tantissimo quando lui vola con le ali spiegate il modo in cui entra nella finestra quella è una di quelle situazioni in cui sai che tutto è abbastanza impossibile ma stai al gioco a prescindere diventa 007 Mission Impossible mi piace anche perché Nolan ha sempre detto che avrebbe voluto dirigere uno 007 per me qual è una concessione che si è fatto ma io voglio ritornare su Joker perché Emilio ha detto non è tanto simile a quello dei fumetti qui mi devo togliere i puntigli da appassionato per me il perfetto coronamento del personaggio che sto leggendo ah dice che agente del caos invece fa i piani il perfetto coronamento che mi fa intendere che lo abbiano capito al 100% è questo scambio di battute tu sei pazzo e lui risponde no per niente a posto così no I'm not a posto così già lì ero in proto di giuggiole va bene così alla grande anche perché in italiano non viene fuori allora anche lì giustamente l'ha citato Paolo hanno giocato sul sicuro prendendo il Giannini giovane che ammettiamolo è bravo ma fa il verso al babbo è palese e va bene così le inflessioni vocali di leggere in originale fanno paura per esempio lì proprio fa no I'm not proprio stizzito e poi lo risolto no I'm not cioè è proprio come dire no stronzo no non sono pazzo chi è matto non ammette mai di esserlo ma secondo me non è quello il messaggio perché se tu guardi il film poi ovviamente è estremo nei concetti poi l'hanno anche associato all'anarchia tante volte però io qui mi ricollego proprio i confronti che molto spesso vengono fatti con i fumetti adesso arriva The Batman di Matt Reeves e si dice sarà lungo Halloween il fatto che lungo Halloween l'abbiamo già visto noi ed è questo esatto settimana scorsa non l'abbiamo detto ma ovviamente Batman Begins si ispirava a grandi linee a Batman anno 1 qui è forse da quello che emerge una certa confusione nelle fasi iniziali dello script si cerca di fondere una struttura alla lungo Halloween quindi con il trittico Batman Gordon Harvey Dent che indagano sulla criminalità classica mentre nel frattempo sta emergendo una nuova generazione di freak in risposta alla presenza del Cavaliere Oscuro e The Killing Joke dove l'oggetto dell'esperimento sociale di Joker non è Barbara Gordon e Gordon quindi che secondo lui sarebbe dovuto impazzire bensì Harvey Dent Harvey Dent e tutta la città di conseguenza e lo so che ovviamente questo è fanservice sotterraneo perché forse anche per questo che non riesco ad essere cattivo con il film perché io ho rivisto tanti di sottolineare i concetti ho rivisto tanti dei concetti che avevo apprezzato per me questo anche lì si parla sempre della fedeltà al Joker più fedele dipende dal Joker che avete in mente recentemente la DC ha anche giocato con questo aspetto con la storia dei tre Joker che poi leggetela perché non è come sembra io ve lo dico non è esattamente come sembra la questione però un personaggio che veramente è stato reimmaginato con il passare di decenni sono personaggi che hanno quasi cent'anni quindi quello che per me è il Joker non è il Joker di Michele non è il Joker di Paolo non è il Joker di voi che ci state seguendo se dobbiamo pensare al Joker moderno leggere quello che lo traspone meglio c'è poco da fare The Killing è diventata una storia celebrata amata da tutti tranne che dal suo creatore è malammuro un po' così e questo è il Joker di The Killing Jock fatto e finito io quando mi sento dire che questo non è il Joker rimango molto perplesso forse non è il Joker che conoscete voi però almeno da 30 anni è così nei fumetti non è più il mattacchione simpatico a tratti lo è ma anche il Joker di leggere ogni tanto la scena dell'esplosione dell'ospedale vestito da infermiera sì vestito da infermierina quando non parte che si gira che secondo alcuni improvvisata e non ha mai indagato a fondo sì qualcuno sostiene ma sai avrebbe dovuto chiedere anche lì c'è una cosa che io non chiederò mai a Nolan io capisco capisco che dal suo punto di vista sarà un modo per rispettarlo ma che porca miseria dopo 14 anni non ci sia stata data la possibilità di vedere un minuto di dietro le quinte di leggere che lavora sul set è una cosa che mi fa imbestialire porca miseria io ho quasi il sospetto che non vogliano spettacolarizzare ne sono assolutamente sicuro infatti ripeto io capisco che è una volontà mirata ma quanto mi farrebbe soprattutto anche alla luce delle leggende metropolitane di cui parlavano farlo vedere sul set dedito al personaggio che si divertiva come diceva nelle interviste secondo me gli avrebbe fatto onore avrebbe fatto stare tanto bene noi appassionati e avrebbe anche lo avrebbe anche celebrato hanno scelto per la riservatezza però mi fa incazzare io posso dire tornando al film un'altra scena che amavo è quella dei due traghetti i due traghetti che devono esplodere no a me è sempre piaciuta tanto e che arriva nel prefinale un po' appesante è bello è bello il concetto del dare per scontato che il gruppo faccia morire l'altro invece c'è solidarietà invece c'è quest'unione apparente che poi si concretizza ma infatti tematicamente è perfetta solo che ripeto proprio da un punto di vista di struttura arriva in quel prefinale quando come diceva Emilio prima tutto si accelera e per rimarcare quello che era già sottolineato nella scena colpiscimi colpiscimi un po' è bellissima la scena ci mancherebbe ci sono dei visi e degli attori scelti in maniera perfetta tra l'altro quello che il mostrone gigante che getta il detonatore è morto l'anno scorso con l'attore lì purtroppo sì però arriva in un momento in cui avevo più bisogno di vedere la conclusione però è bella la scena mi piace tantissimo però cioè arriva in un momento in cui forse per la prima volta capisci che il Joker sia davvero vulnerabile perché lui lì aveva la sicurezza che esplodesse quel caos che ha sempre lo rendi fragile poi c'è il finale per dimostrare ma poi quando sta precipitando che ride gli voglio troppo bere questo troppo 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 la scena che per me è storica dopo l'introduzione del Joker è quella dell'interrogatorio quello è un altro punto in cui proprio il rapporto tra Batman e Joker è messo su schermo per quello che è nella sua natura più essenziale quella è una ecco e lì anche lì meno male che è mantenuta in originale il modo in cui veramente sembra che Joker più gli fa male più gode dopo da un più distante di piacere è allucinante lo ripeto diamo che scontato però non lo era è anche inquietante il personaggio del Joker è davvero inquietante con questo rosso proprio sbavato bellissimo quando gli prende la testa e gliela sbatte nel vetro caspita ho sentito male io è fantastico non abbiamo parlato dei comprimari no io volevo infatti introdurre ricollegandomi a un difetto tirato fuori da Emilio volevo ricollegarmi proprio a Harvey Dent eh io volevo dire quello infatti che per me non è un difetto però allora anch'io guardando riguardando il film mi sono detto soprattutto pensando purtroppo al mancato riutilizzo di Joker che sarebbe stato bello portarlo avanti due facce però in realtà del caso ci mancherebbe altro perché te lo fa aspettare per tutto il film e quando te lo dà subito dopo te lo toglie è anche vero che a livello tematico è inserito benissimo è quello è il più dispiacere di non avere più tempo per vedere due facce in quanto due facce che il senso di vederlo morire così che Batman si possa prendere la colpa di quello che ha fatto lui è una frustrazione comprensibile ma nell'economia del punto d'arrivo logico narrativo del film non fa una grinza però per dire io ho gradito di meno come viene poi ne parleremo la prossima settimana ha fatto fuori un Bain della situazione in maniera così anticlimatica rispetto a un due facce che comunque diventa quel personaggio che fino a poco prima lui in primis tentasse di sconfiggere invece la corruzione lo fa vivere è come se lui sorgesse dalle sceneri della distruzione che cercasse di sconfiggere quindi l'ho trovato sensato poi certo poter vedere un due facce maggiormente poteva essere molto interessante però almeno ha una sua dignità alla morte ma diciamo che a livello narrativo serviva per provare il punto di Joker e paradossalmente quando si trasforma ah no l'analisi sceneggiatori non interessa più tanto no 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 quello che conta sono le conseguenze due facce è lo stupro di quello che Harvey Dent era e sarebbe dovuto rimanere per Gotham è quello a che serve esatto però volevo chiarire un altro puntiglio che vedo in chat ovvero il finale al finale allora innanzitutto è un tormentone che ci porteremo dietro Batman uccide non uccide qua tecnicamente lo fa cadere lui insieme però sarò sempre stato io traviato quando volano giù in quadratura successiva c'è Batman che sembra quasi essere proteso per afferrarlo quindi io mi sono sempre immaginato che avessi voluto prenderlo e quello è crollato avrebbero potuto dare la colpa al Joker a parte il fatto che stiamo parlando di Batman è quello basta pensare a chi si faccia riferimento un personaggio onorevole se avesse dato la colpa al Joker Joker ne sarebbe stato contento immagino e paradossalmente avrebbe dimostrato la sua caduta tu sei arrivato al punto di accusarmi di crimini ingiusti per cercare di tamponare quello che ho fatto ci sarebbe stato proprio in palese contraddizione eh sì io ho anche visto un senso di colpa forse l'ho sempre letto io nel Batman che non riesce a salvare Harvey cioè si investe delle sue colpe anche come a voler spiare un peccato leggevo anche che Batman non è interessante in questo film io non sono per niente d'accordo anzi ieri mi sono proprio incentrato su di lui qui vediamo ed è una tematica comune in tutta la trilogia di Nolan che paradossalmente forse è l'unico racconto batmaniano con un finale chiaro e ci arriviamo settimana prossima vediamo un Bruce che è costantemente tentato di mollare dall'abbandonare il suo demone e qui vedendo Harvey Dent lui ci crede davvero assolutamente ho fatto il mio dovere e il cambiamento sta arrivando lui crede davvero che sia arrivata la fine e invece per colpa delle circostanze per colpa di un Joker che mette in dubbio sui concetti si rende conto che forse non riuscirà mai ad abbandonare questo compito che si è autoaffidato e il Batman al termine di questo film è un Batman privo di speranza e lo vedremo all'inizio di quello dopo esatto perché non ha più nulla e quindi la donna che amava che era l'obiettivo di lasciare Batman nel cassetto e ci vedo anche molto la minaccia del fantasma tra l'altro sempre per citazioni mamma mia ci vedo molto il film animato la minaccia del fantasma e anche lì l'amore sembrava lo stesso allontanando e poi c'è un risvolto diverso ma comunque tragico chiaro quindi anche qua col tempo senza tornare quel finale lì io mi ricordo che al cinema non sapendo dove andavo a parare il film è veramente tuttora da brividi io mi ricordo proprio c'è quel momento speciale in cui specialmente in cui lasciano andare i cani in cui te pensi appunto che tutti vanno contro Batman quando dovrebbero ringraziarlo senza mai proprio straziante proprio da amante di Batman per uno che ha seguito il film è un grandissimo finale io ricordo la prima visione stavo per mettermi a piangere ve lo dico sì 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 assolutamente io ero sconvolto anche io mamma mia e ho ancora sempre i brividi e poi finisce così boom ciao poi con la colonna sonora in calzante con anche quello non è scontato è un finale tragico per un cinecomic sì esatto non come No Way Home per Dio è tragico più parli di questi film più ti viene il nervoso nei confronti di No Way Home è proprio una cosa che continua però è vero cioè la colonna sonora in calzante lui che se ne va e si prende il bimbo che aiuta molto il bimbo aiuta molto l'effetto drammatico sì è vero ma perché sta facendo questo qualche miseria non ha fatto niente il dialogo di Go ti fanno vedere che distrugge no a me i brividi arrivano quando si vede che distrugge il batsegnale da lì davanti vanculo esatto l'eroe che Gotham si merita ma di cui non ha bisogno in quel momento mamma mia dico ma per carità dico quel puntiglio che mi ha dato un po' fastidio vai un fastidio un fastidio moderato la colonna sonora mi presente e invece però a me non mi dà fastidio sono sincero non c'è mai un momento di silenzio in sto film io taccio perché quando dico che Andino tranne scena dell'inseguimento la scena dell'inseguimento silenziosa all'inizio almeno allora c'è altra stronzata eh ragazzi se guardate dieci metri oltre quel camion dei pompieri che prende fuoco la città è normalissima però ci sono due strade chiuse con un coso che prende fuoco fantastico però per quanto sia onnipresente io devo dire che Hans Zimmer fa un lavoro bellissima io ve l'ho detto la settimana scorsa ve lo ricordate io guardando il trailer non mi ero reso conto che praticamente anche nel film praticamente vengono usate a parte quelle del Joker 9 tutte le musiche che c'erano già nel primo e che io non avevo notato proprio perché nel primo erano più sottotraccia c'era più la natura James Newton Howard qui invece è tutto altro problema che donato alla storia del cinema contemporaneo da The Dark Knight quel cazzo di che è in ogni film in ogni trailer in alcuni ci sta bene in altri no allora poi attenzione la colonna sonora per me è bellissima e prima mi sono dimenticato di un dettaglio per per la marcia di avvicinamento al film questo mio convincimento nei riguardi di Joker quando ho sentito la colonna sonora anche lì pubblicata prima spoiler sì c'era subito io l'ho sentita partiva e poi il delirio più totale perché perché se la sentite il delirio e io ho detto cazzo l'hanno imbroccato allora cosa che invece con l'enigmista dobbiamo vedere il film ma con l'enigmista di Batman non è successo è un approccio completamente diverso quello era l'ultimo Hans Zimmer che sperimentava cose estreme interessanti ora siamo arrivati Hans Zimmer scorreggia in una scatola da scarpe per usare la traccia che palle un po' troppo un po' troppo io lo amo sempre però quel che diventa sempre annuncio dell'arrivo del personaggio anche quando non lo vedi l'ho utilizzata bene però ieri c'erano alcune scene dove Bruce e Fox parlavano tranquillamente e sotto la musica basta dopo un po' a me dà molto fastidio cioè la trovo molto invasiva nella scena dell'attacco al palazzo alla fine che veramente ti dispappola il cervello lì invece a me piace però è molto incisiva in quel momento cioè accompagna bene la situazione sì 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 a me piace tanto due cose veloci Morgan Freeman e Michael Caine splendidi Morgan Freeman c'ha la sottotrama che sfocia nella riferimento più palese al post 11 settembre con il grande il controllo di Patrick Stark questo è sbagliato per quanto di Daz Calico e poi Michael Caine che c'ha quella meravigliosa storia del ladro di diamanti in Birmania un piccolo passato anche una piccola storia dal passato militare di Alfred che è molto molto bella soprattutto questo film ci ha regalato uno dei più grandi attori degli ultimi anni David Dasmalkian il nostro polka dot man del cuore è vero mi ricordo di averlo scoperto qua quando lo vedo infatti a me ricordo mi viene sempre in mente il cavaliere oscuro ogni volta che lo vedo in un film sempre stessa cosa e si vede credo due minuti sì sì a malapena a malapena c'ha quella fatta proprio il viso meraviglioso da pazzo totale poi c'è il nostro il nostro Richard del cuore Mattioschi mi chiedono adesso poi arriviamo a Rachel che non abbiamo ancora parlato Alfred cosa faceva prima di fare il maggiordomo questo è canone è stato nell'esercito esercito certo ed è stato anche un attore shakespeariano tutte lui vero ed era anche un grandissimo trombo volevo dire scusate esatto esatto eh sì la roba dell'attore perché ogni tanto anche lui si infiltra si trucca un po' per aiutare Batman nei fumetti e quindi hanno dovuto trovare la giustificazione che fa il sindaco di The Gotham Richard Alpert che ritroveremo anche nel prossimo film il prossimo e anche Anthony Michael Hall di Breakfast Club Memoria che fa il giornalista giornalista ho trovato allora prima Rachel poi vi tiro fuori l'altro mio rammarico ok eh io il cambio il cambio dell'attrice l'ho sempre trovato un po' fastidioso e non sono che oggi è recasting eh attenzione devo dire la verità no io sai sto per fare un discorso brutto molto brutto che è superficiale da morire ma Maggie Gillenall in questo film per com'è agghindata non riesce per formamenti maschilista di merda che mi ritrovo a giustificare questa affascinazione incredibile da parte di Bruce lo so che è brutto da dire eh però non l'ho mai trovata a me a me allora Maggie Gillenall facciamo i maschilisti non è bella di per sé ma piace sì sì citando sempre per rimanere in tema maschilismo Katie Holmes che è un pochino più svenevole ci stava meglio nel ruolo perché era credibile quando si impuntava però dava sempre un senso di fragilità qui secondo me la Gillenall è palese che vuol fare la grande attrice però non c'ha materiale a sufficienza per fare un ruolo complesso e quando cerca di fare la brillante non risulta credibile secondo me ma poi ma perché devo cancellare è un gusto personale sto dicendo con un discorso superficiale però quando Joker la vede che comincia a fare il finto provolone io non l'ho mai ritenuto credibile che ci devo fare forse perché sono traviato da decenni di Hollywood maschilista con la biondona con la Handel e via dicendo sono cresciuto al Joker e Kim Basinger e poi sono cresciuto con Batman Forever e quella porcona lì di Chase Meridian evidentemente sono rimasto traviato ma io ripeto al di là della carica sessuale credo proprio che Katie Holmes come damsel in distress determinata ci stia secondo me anche il modo in cui la recita la Gillenall sembra quella che so che sono sotto gli occhi di tutti mi impegno e si impegna troppo non dà la leggerezza giusta al personaggio io vi dico la verità e mi dispiace per nulla bravo mi sembra una sostituzione preferivo anch'io Katie Holmes però allo stesso tempo non mi sembra ma Paolo ma la Gillenall vale 10 Katie Holmes da un punto di vista c'è anche il suo primo film da recita io immagino Katie Holmes nella scena della bomba e mi viene un po' da star male ok sicuramente in Fratelli d'Italia ci sta meglio Sabrina Salerno di Julian Moore però Julian Moore è più bravo è quello ho capito dai io c'ho da dire due cose veloci da un punto di vista chiudiamo la parentesi perché qua dicono che a parte l'aspetto che in effetti è trascurabile io leggo è antipatica e critica Batman continuamente anche quando viene una colpa non è un personaggio rilevolissimo anche quando vedete poi emergono i dettagli con la visione ravvicinata quando fa la battuta d'Harvey beh se non ti volessero uccidere evidentemente ma gli ha mostrato il capo nel film prima chiamava Cesare non ha mai voluto cedere ma al di là di quello hanno ucciso il suo capo il film prima e fa le battute d'Harvey che se non ti vogliono uccidere vuol dire che non stai facendo bene il lavoro ma cazzo povero Harvey che personaggio è cioè anche prima che diventi due facce è un cavallo quando annunciarono Aaron Eckhart fui contentissimo perché l'avevo conosciuto in quei due o tre film prima tipo ogni maledetta domenica thank you for smoking ma anche lì mi piaceva tantissimo quando dicono che la moneta è un regalo del padre io godo cazzo scusatemi ma poi c'ha quella faccia proprio stasera ti stendo e ti spezzano due anche se questa è più bella questa resta più bella quella è quella di forever cosa ti vuoi dire no volevo dire regalo del padre scusate una è un blooper e una è una cosa che mi tormenta da 14 anni nella scena in cui salta per aria la giudice la giudice se voi guardate negli extra del DVD del Blu-ray cioè questo mentecatto perché di mentecatto parliamo che è uno dei due scagnozzi che è nella macchina che va via prima che esploda la sua vedetelo quello è uno stacco improvviso alla Nolan giustificato perché se guardate il B-roll negli extra questo stronzo perché di questo parliamo appena esplode la macchina fa voi guardate l'ultimo fotogramma di quell'inquadratura e vedete questo che fa e stacco cioè allora dopo avermi più lavorato un film mi fa scoprire delle cose prima il ritorno al futuro mi fa scoprire il bambino che si indica poi mi fa scoprire questa cosa io ricordo di averlo visto già al cinema ma perché ride quell'idiosa poi c'è l'extra proprio questo io mi immagino Nolan che ha detto mandatelo in Siberia qualcosa del genere con una macchina dietro che esplode una roba terrificante e l'altra cosa io tuttora non ho capito che cazzo fa Bruce a recuperare l'impronta digitale da quel proiettile non l'ho mai capito neanch'io vedi perché tu hai visto una cosa prendo il pezzo di muro vado dentro e da quel detrito recupero l'impronta no deve fare buchi in altri mattoni vedere qual è il buco più simile ma che cazzo vabbè è un po' è un po' come quando il detective di turno grazie alla sua intelligenza e arguzia risolve i casi e dice ma come aspetta vabbè non facciamoci troppe domande anch'io non ci ho mai capito un cazzo è una cosa allucinante mai mi sono sempre fidato ah vabbè la saprà lunga bravo Batman allora il mio puntiglio il personaggio di Reese che secondo me è interessante abbiamo un personaggio che scopre che scopre la verità su Batman per carità Fox gli fa presente come non è che si trovi in una situazione dove ha proprio il coltello dalla parte del manico però termina lì sarà che qui mi sono lasciato suggestionare dalle teorie all'epoca in voga nei forum ma a me sarebbe piaciuto rivederlo nel terzo addirittura sai qual è la teoria che andava per la maggiore quale che sarebbe diventato l'enigmista no caspita tipo saltava fuori che si chiamava meglio di così però vedete che ha cambiato vedi proprio l'ultimo così c'era chi teorizzava che si chiamasse Edward Reese quindi poi Edward Nigma quindi mi è sempre un po' rivedendo il film mi è sempre un po' rimasto lì perché questo effettivamente sapeva comunque avrà scritto metti anche caso che nessuno gli crede ma l'avrà scritto un libro sarà andato da una Barbara D'Urso avrebbe avuto più senso se la faccenda fosse finita dopo la scena con Morgan Freeman è quello poi va anche in tv è quello il problema è lì che noi sbaglia il film a riproporlo c'è una taglia su di lui e rischia la morta in continuazione poi dopo perde il senso un'altra chicca che avrei adorato li sarei impazzito tipo Joker che lo incontrava nello studio questo gli dice no no fermo ti posso dire chi è Batman e lui lo ammazza perché non gliene frega niente esatto io li sarei impazzito vi prende dovete fare la Matioski scat ragazzi sì assolutamente fatela fatela e poi vince l'Oscar votato su Twitter perché Joker effettivamente dice di ammazzarlo a quel punto lì esatto dice chiunque lo uccida bla 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 quanto ci rimanevi male quando vedevi Joker bruciare i soldi io tantissimo ogni volta io me l'aspettavo anche lì io durante la prima visione ho avuto vari test mentali quando ha bruciato i soldi sì cazzo vai 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 avete capito questo personaggio bravi un'altra piccola chicca per il pubblico magari qualcuno non lo sa l'attore che interpreta Salvatore Marone Eric Roberts oltre ad essere un grandissimo caratterista che ha avuto dei problemi è il fratello maggiore di Giulia Roberts certo vedi non che è lui il padre del di quella di Scream 4 di Emma sì di Emma non penso eh però aspetta vado a vedere non è lui aspetta vado a vedere sarebbe un bel guarda che sono io Paolo vai guardate dai dai controlliamo le genealogie Emma Roberts è la figliola sì sì è la sua figliola hai visto vedi io da fan di Scream non lo sapevo ma in putrida eh sì yep Emma Roberts verso cui nutre un interesse puramente accademico eh eh ma è accademico ma è accademico perché Emma ricordiamocelo Emma Yala no scherzo no 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 questo lo censuriamo questo lo censuriamo stiamo stiamo divagando non ci siamo più ripresi dalla Gillenal ora abbiamo parlato maledetti noi non abbiamo parlato della moto io l'avevo vista nei trailer ma quando mi rendo conto nel film tra l'altro altro piccolo blooper palesemente la Batmobile era atterrata a pancia in aria palesemente ma poi subito dopo si rigira appena ho capito che stava per uscire dalla Batmobile con la moto ho iniziato a dare le testate al sedile davanti tipo proprio la gioia più più sprenata è bellissimo quel mezzo mezzo di trasporto che poi terrà fino alla fine della saga non avrà più la Batmobile è vero io dicevo ma se gli rimane il mantello si ammazza e invece ogni volta non c'aveva più soldi per la macchina non basta è andato la citazione a Jason Todd ma quale? che lo picchia col piede di porco? sai che non l'ho mai ricollegato? mai non ho mai ricollegato le due cose però volendo ci può stare ci può stare dai 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 allora Campbell è l'attore di Spawn certo Michael J. White questo allora mi fa capire che siamo arrivati siamo arrivati sì perché siamo dilungati potremmo parlare per altre tre ore credo eh sì ma dai 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 dopo un primo posto di Emilio rendiamo rendiamo più pepata la discussione la classifica qui presente abbiamo un primo posto di Emilio è vero è vero è un'altra di allora io vado tranquillo sapendo già il risultato finale è un'altra di quelle situazioni in cui nel corso di un anno posso fare avanti e indietro 75 volte però io questo giro sapendo di doverlo analizzare anche organicamente una settimana dopo l'altra mi sono chiesto quanto sia grande questo film di per sé e quanto sia grande sulle spalle di un altro grande film visti a una settimana di distanza per me Batman Begins resta un film più compatto più teoricamente importante e quindi questo va secondo per me comunque Michele che è un pareggio che è un pareggio Michele glielo dico con tutto il bene possibile la presente e te tu sei come la gocciolina di pipì che esce anche quando tu ti sei pulito bene che tu pensi di essere un minuto partendo dal presupposto che sono per me alla pari partendo dal presupposto che sono più o meno alla pari guardandoli mi rendo conto di due cose una antipatica che il 30% in più di passione per The Dark Knight viene da leggere la sua storia due che senza Batman Begins tutto quello che questo film osa fare non ci sarebbe stato e secondo me anche visti così ravvicinati l'anno scorso li ho visti tutti e tre in un giorno di lockdown dalla mattina alla sera e avevo già avuto questa sensazione e questa volta a rivederli pensavo che magari avrei cambiato invece no trovo che Batman Begins nel suo essere un pochino più intimo un pochino più character driven detta l'americana e un pochino più anche attento al lavoro che fa di scrittura rispetto alle esagerazioni del secondo abbia un peso specifico più importante poi sicuramente il film più clamoroso il film più eclatante è il secondo ma in questa revisione ho riguardato più volentieri Batman Begins ci sta abbiamo già fatto discorsi di questo tipo vi ricordo che c'è un Batman e Robin al quarto posto Paolo allora adesso ora al quarto allora per quanto io lo sapete la scorsa settimana non avevo messo prima Batman Begins eppure mi piaceva molto stavolta è ben diverso perché indipendentemente dal primo posto di Begins o anche del Barton che avrei voluto io stavolta metto il Cavaliere Oscuro primo primo assolutamente perché è un film a cui voglio troppo bene che l'abbiamo detto fino ad adesso quanto sia stato importante per la storia del cinema come del resto il film di Tim Burton però Tim Burton è stato premiato tutte queste settimane premiamo quindi anche il nuovo che avanza quindi i motivi li ho già spiegati penso che si possa giudicare la prima posizione la mia posizione la sapete ovviamente dopo Batman e Robin perché quello è un film molto più colorato divertente scanzonato no dai una cosa mi tocca leggere Joker un Goblin fatto male ma ragazzi ma come imparate a scrivere primo posto tutta la vita primo posto tutta la vita ah per una volta dai sì dai nonostante tutto siamo stati anche cattivi oggi ma spiace spiacente spiacente vedi Michele stavolta no no ma io l'ho detto lo prendo sia con sé i cazzotti li facciamo la prossima settimana e mi sa che quindi sei in minoranza tu Paolo le motivazioni sono quelle già dette all'inizio è un film che ha fatto la storia che secondo me rispetta moltissimo i personaggi che traspone pur rivisitandoli nell'estetica pur collocandoli all'interno di un contesto riconoscibile e non in una Gotham più fumettosa però per me c'è proprio tutto il Batman più puro qui dentro i personaggi sono loro decontestualizzati rivisti ma sono loro nella natura nella sostanza tutte le scene di Joker per me sono iconiche una dopo l'altra lo so a memoria tutte le volte in cui l'ho rivisto e proprio sapendo la memoria emergono le criticità di chi ormai lo conosce a 360 gradi a posto non c'è storia come siete bani non ci posso far nulla ha rivoluzionato anche gli Oscar non so se lo sapete certo hanno introdotto le 10 si vabbè ha fatto fare le 10 nomination che tra l'altro solo da quest'anno sono obbligatorie 10 perché era la tendente però diciamoci da amici e da esperti di Oscar rivoluzione sulla carta perché poi cioè si ci metti candidato Spider-Man No Way Home sapendo che tanto non vincono mai sono lì per approfitto di questi minuti in eccedenza per fare il nerd terribile prima leggevo che nella scena dell'interrogatorio sembra che Joker sappia chi è Batman no non credo che il film lo suggerisca però non sarebbe un problema perché nei fumetti tantissime volte è implicito che lo sappia che lo sappia e che se ne strafreghi proprio cioè lui ma l'altro visto che li hai citati Mattia nonostante c'era la super chat adesso leggiamo sì 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 no dicevo visto che li hai citati velocemente ok che ha il tipo di film che era ma anche da un punto di vista tecnico non ha vinto un cacchio sto film agli Oscar ha vinto solo Heath Ledger e miglior montaggio sonoro addirittura se non sbaglio gli effetti speciali non erano neanche candidati e non aveva nessun altro tipo di nomination di rilievo o comunque poca roba la super chat la tengo per ultima per compo no leggevo Goblin è più pazzo di Joker prendo spunto da questo commento che mi sembra un po' trolloso è giusto per far bagarre per dire che proprio quello è il punto Joker non è pazzo poi ovviamente dipende dall'interpretazione dalla chiave di lettura ma io mi riferisco alla interpretazione più moderna ma per moderna intendo un bel trent'anni abbondanti lui è fautore di una filosofia estrema che si porta dietro per via di esperienze pregresse che Alan Moore ha provato a raccontare lui è perfettamente in contrasto con Batman che discorsi da nerd laddove Batman a seguito di una brutta giornata ha cercato di imbrigliare il caos dandogli senso Joker dopo una brutta giornata riconosce che la vita di senso non ne ha che è una barzelletta e quindi ci gioca e il suo obiettivo ultimo è far diventare Batman come lui lui vuole che Batman si renda conto di questa cosa della vanità della sua missione molto spesso persino nella serie animata perché è facile citare il ritorno del Cavaliere Oscuro di Miller ma nella serie animata c'è un episodio in cui sembra che uno sgherro qualsiasi abbia ucciso Batman e Joker è arrabbiatissimo un po' perché l'ha fatto una mezza tacca ma anche perché senza Batman lui dice il crimine non è più divertente addirittura Morrison grandissimo autore di fumetti negli ultimi vent'anni nonché pazzo scriteriato autore di una run di Batman sotto LSD nonché memorabile chiamata Batman Rest in Peace ha teorizzato che Joker sia ipersano lui ha un grado di osservazione della realtà talmente raffinato e al di sopra della concezione comune da risultare pazzo per tutti gli altri e poi è uno che magari utilizza la follia ma non per questo deve esserlo folle per poterlo fare assolutamente Morrison è uno talmente bizzarro che nella sua gestione ha cercato di ricontestualizzare tutte le storie di Batman mai pubblicate e allora lui racconta che ci sono stati Joker diversi nel corso della vita editoriale perché Joker che si riplasma continuamente per adattarsi ai tempi in maniera voluta c'è proprio un genio e per questo che affascinante io quando sento dire che Joker è un pazzo che il suo fascino è che sia pazzo un po' mi intristisco perché invece sarebbe bello ogni tanto quando è scritto bene certo provare ad ascoltare le sue parole The Killing Joke The Killing Joke è illuminante è veramente illuminante ho finito di fare il nerd di merda la super chat Jar Jarvis perché se dobbiamo parlare da un punto di vista qualitativo allora è necessariamente soggettivo esistono criteri oggettivi sì ci sono criteri oggettivi nel cerchio sono quelli che fanno riferimento alla tecnica alla grammatica alle regole che vengono insegnate poi le regole si possono sempre stravolgere dando vita paradossalmente a nuove regole che da lì in avanti anche perché sennò saremmo degli automi che rispondono sempre ad un'unica regola senza però questo è il classico ragionamento che a me mi manda ai matti perché le cose sono due o appunto c'è il grande libro delle regole le impariamo a memoria e tutto è uguale per tutti quindi chiudiamo internet Patioschi chiude il canale lo chiudo io lo chiude Paolo e ognuno sa che può pensare solo in un modo un film può essere bello anche se è brutto i famosi guilty pleasure sono i film che non funzionano secondo le regole che come dici giustamente tu utente esistono io ho un mio amico che ogni tanto da quanto ha studiato le regole della struttura narrativa vede un film gli piace che non segue le regole e gli va in tilt il cervello ma gotitelo il film non è che sia un film cioè se andiamo a vedere come dicevamo prima alcuni capolavori possono anche non avere senso cioè Rocky è una stronzata di film da un certo punto di vista però c'ha dei personaggi meravigliosi c'ha una scrittura che è piena di cuore è un progetto personale quindi subentra anche la storia del progetto stesso ed è un grandissimo film è un po' il ragionamento che si fa sempre guarda lì gli Oscar non hanno candidato Tizio Caio e Sempronio che puttanate no gli Oscar premiano quello che per quest'anno per loro ha rappresentato il cinema che volevano vedere si chiamano Opinioni quindi è vero che nessuno potrà mai dire che Christopher Nolan per questo film non avesse una visione incredibile e che è riuscito a dargli vita questo non significa che allo stesso tempo lo scemo di Michele Innocenti possa dire questa è una stronzata dentro a un grande film è vero è verissimo Cinema Sims che prima mi divertivo a vedere ora mi ha un po' rotto gli Zebedei è in grado di smontarti da quarto potere al padrino fino a questo film non vuol dire che i film siano meno belli ci fai un sorriso sopra ci sono sceneggiature di ferro poi recitate talmente un esempio solo The Social Network l'ho già detto un'altra volta è un capolavoro perché ha beccato un grandissimo sceneggiatore Aaron Sorkin e un grandissimo regista David Fincher che hanno lavorato insieme hanno fatto un capolavoro due anni dopo ha fatto la stessa cosa Aaron Sorkin Steve Jobs ha trovato un regista del manga Danny Boyle e non è venuto bene uguale anche se la sceneggiatura ci sono 400 fattori che rendono grande o meno un film ogni tanto tutto va bene e c'è la perfezione spoiler una volta ogni 100 film ma poi proprio perché sono imperfetti ragazzi è verissimo ma se ne è sempre parlato dall'inizio di questa retrospettiva e lungi da me criticare le regole importanti della grammatica cinematografica poi ognuno i film li vive come vuole cioè io ad esempio non riuscirei mai a non usare il cuore a non viverlo il film come diceva Michele cioè ormai sembra quasi che il cinefilo certi film per forza li debba distruggere certi film faccio un esempio stupido e so che stiamo divagando però per rispondere alle super chat Michele sul suo profilo facebook ha consigliato mary me io non l'ho visto non mi ispirava neanche però gli è piaciuto e invece per i cinefili cioè guardate veramente la gente ma spennacchiato sì cioè allora io se devo vergognarmi a dire che mi piace magari una commedia leggera con De Luigi sono fiero di non essere cinefilo guardate un po' cioè non me ne importa no ma poi leggo c'è anche componenza ragazzi è che poi concludo Mattia scusami leggo di insofferenza e di arroganza semplicemente è bello l'internet è bello litigare io e Paolo mi scrive di un film e dico non capisci un cazzo perché io sono ormai vecchio e cinico lui è giovane idealista se vede che un regista ha camminato sulle mani tre giorni per fare un film è bello a prescindere io ti dico ma non è vero invece lui che ci ha camminato invece lui che ci ha camminato però dovreste vedere se ci fosse un ufficio per vedere le nostre conversazioni il fatto è che anche questa Goblin è meglio di Joker eh ma voi di cosa cioè si parla di opinioni si parla di sensibilità perché poi ognuno di noi mette un filtro che è la sua storia di cinema ricordate il mio canale e eh e la sua esperienza la sua sensibilità a me un film commedia romantica con Jennifer Lopez Samuel Wilson a 37 anni piace perché è scritto bene e loro due funzionano come coppia al classico 14 anni cinefino arrabbiato che sta scoprendo Lars von Trier fa schifo anzi all'epoca non si andava neanche a vederlo cioè ci sono tanti elementi che aiutano a percepire in un modo o nell'altro i film ma si ma c'è anche l'estremo non è un estremo anzi c'è anche il ragionamento opposto ci può essere un film perfetto in tutto e per tutto ma che per sensibilità personale non piace no ma ci sono dei film che sono talmente perfetti che sono freddi e si dimenticano tutti ci sono film che hanno vinto 18 Oscar no perché chi ne ha vinto di più è 21 dopo due anni non gliene frega niente a nessuno è quello che quell'anno è stato snobbato diventa un film uno dei film più importanti della storia del cinema io sono dell'idea che l'importanza da un lato dall'altro che si voglia vedere il cinema in un certo modo in un altro sempre avere rispetto perché non c'è niente di più brutto che quando passi da alieno che magari apprezzi un film o non apprezzi un capolavoro oppure apprezzi un film discutibile come può essere quindi l'oggettività chiudo con un esempio perché mi metto dall'altra parte della barricata sto parlando di Attack on Titan in queste settimane perché stanno trasmettendo l'ultima stagione dell'anime e per quanto riguarda il fandom anime manga che qui sul canale non è molto presente perché non è un argomento che tratto è veramente un oggetto di culto perché contestualizzandolo a livello storico è un'opera che ha stravolto tanti canoni della narrazione praticamente shonen c'è un'intera generazione che ci è cresciuta che ha trovato per la prima volta in quelle pagine e in quelle immagini un modo di raccontare dei colpi di scena che magari qualcuno con qualche anno in più sulle spalle può avere trovato in altre visioni e quindi è veramente quasi un capolavoro riconosciuto arrivo io che ovviamente la mia opinione può essere discutibile come quelle di tutti faccio presente che a livello di grammatica per quanto riguarda la scrittura a volte è un pianto e io in parte la capisco la rabbia di chi invece lo ritiene è intoccabile da un punto di vista emotivo e di gusto e di soggettività e allora lì chi è che ha ragione quello che tiene in conto la grammatica o quello che tiene in conto la soggettività ai posteri l'ardua sentenza ragazzi io chiudo con la battuta che faccio sempre e così ci ridiamo sopra c'è gente che paga per godere per farsi prendere a pedate nell'Izevedei io rinuncio c'è ciascuno il suo nel senso c'è chi piace anche quelle cose da me non piacciono sono sicuro che mi evito un mondo interessantissimo però a ciascuno il suo però diciamo che ho visto che lo stanno citando a oltranza io Fight Club l'ho visto a 14 anni adolescente incazzato per me era un capolavoro lo vedessi oggi reagirei come Joker come ho reagito con Joker a 35 anni divertente ma è una stronzata però diciamo è una delle più grandi piaghe degli ultimi periodi degli ultimi anni anche quando argomenti e dall'altra parte ma è oggettivo che esiste l'oggettività ma quando è oggettività è verissimo concludiamo se no ci parliamo addosso l'oggettività c'è se c'è uno scavalcamento di campo tipo è off del tuo amico cialtrone e lo riconosco sei un cialtrone perché non rispetti il linguaggio cinematografico e lo fa compriere però anche in Matrix Revolutions ci sono i scavalcamenti di campo e ti spiegano che è per sovrapporre le posizioni di Neo e Smith è un rompere una regola per dargli un significato cioè quindi ogni cosa va letta nel contesto c'è il film di 40 anni fa che ha fatto scalpore ha cambiato la storia che oggi sembra ripeto una scoreggina però 40 anni fa ha fatto certe cose se te pensi a Lars Von Trier lui prende il libro delle regole cinematografiche e la grammatica lo piega lo brucia alla fine cosa vogliamo dire che allora tutto il cinema di Von Trier sia da bocciare semplicemente ha una sua idea poi bisogna contestualizzare l'oggettività esiste lungi da me detto questo l'ultima puntata di Attack on Titan faceva veramente cagare bene ci salutiamo io saluto e ringrazio Michele innocenti ti ringrazio saluto questo utente che alla quarantesima volta che me lo chiede mi devo rispondere sì i capolavori di Christopher Nolan sono De Prestige e Memento a questo punto seguite il mio canale Inno al Cinema faccio 40 video su Christopher Nolan e su Perché in Testella è un film di merda grazie grazie mille la prossima settimana ne vedremo delle belle ne vedremo delle bellissime quindi allora la prossima settimana non c'è Lego Batman che è per ultimo e per ultimo perché l'ultimo uscito va bene abbiamo The Dark Knight Rises io non vedo l'ora non vedo l'ora intanto vi ringrazio è stata una puntata bellissima anche con questa divagazione ma molto interessante sull'oggettività la soggettività e chi più ne ha più ne metta e come disse Cicciolina ricordiamocelo un caro saluto e ci vediamo alla prossima ciao assolutamente martedì prossimo alle 17 The Dark Knight Rises oppure il titolo italiano poco fantasioso Il Cavaliero Oscuro Il Ritorno e nella lingua di Bane è così che altro sono curioso e Michele ha già detto sicuramente sarai in minoranza rivolgendosi a me vediamo perché non anticipiamo il più grande film di tutti i primi ciao a tutti ciao a tutti ragazzi alla prossima stasera alle 9 e mezza mi trovate sul canale Twitch di PopGarage per un'intervista non so cosa mi chiederanno i numeri dell'otto ciao a tutti ragazzi ciao si vinciamo